Io, se siete d'accordo, incomincerai da Sofia. Sofia Goggia, che prima abbiamo salutato all'inizio di questa serata, ancora bravissima. È vero che prima ti abbiamo già celebrato. Ragazzi, facciamo rivedere per chi, come si dice, si fosse messo in ascolto sotto in questo momento la medaglia d'oro e la coppa del mondo di Sofia. Guardate lì, sono sul tavolo, guarda che roba, guarda. Fai vedere la medaglia, per favore. Guarda che cos'è. Grazie. No, grazie a te. Senti, ho detto prima del sacrificio di una carriera, di una vita dedicata allo sport. Abbiamo visto le immagini delle Olimpiadi e della Coppa del Mondo. Ma siccome è proprio bello vederti in gara, allora volevo mostrare queste immagini riassuntive, in qualche modo, della tua carriera. Prego, dedicate a Sofia Goggia. Grazie. Se esattamente un anno fa, a quest'ora, mi avessero detto Sofia, farà una grande stagione. Avrei subito firmato, occhi chiusi, bendato. Grazie. 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 Come vi ha detto prima, tu in realtà non ami la neve. Cioè, se non fosse per il gusto della competizione, tu non usciresti? Per diletto due o tre giorni all'anno, forse. Beh. Forse. Cioè, come era? Cioè, no, proprio senza tutina, dico, perché altrimenti sono sulla neve. Senza tutina, detta così, cina sua Cristina è molto equivoco. No, esatto. Senza, diciamo, muovermi per i miei obiettivi, ecco. Senti, Sofia, ma... Cioè, non vai per il gusto di sciare. Però parli con la neve. Cerco di interagire con lei per capire come sto io, come sta lei, se è un elemento con cui ho abbastanza una conversazione. Ma la neve in pista, scusami, la neve in pista è sempre uguale? Ha sempre la stessa densità? No, dipende. No, parla una lingua diversa a seconda del paesaggio. No, perché la devi toccare, può essere più dura, o la fanno sempre uguale per tutto il campionato? No, no, no. Allora, dipende innanzitutto dalle condizioni meteo, dalla temperatura, dal cristallo della neve e poi ci sono magari certi posti dove riescono a farla più ghiacciata, in altri più naturale o più artificiale, dipende. Noi sciatrici ci adattiamo a tutto. A tutto. Senti, a proposito di musica, lo dico che c'è sua Cristina accanto, tu so che la musica ti carica molto prima di una gara. Ma, no, dipende, dipende dalle volte, non sempre l'ascolto. Tu ascolti i vinili, vero? Ogni tanto, quando sono a casa, in pratica quattro giorni all'anno. Sì, ma tutto, dalla classica ai Beatles. Da Fedez a Beethoven. Beh, non c'è una gran differenza. No, pensavo un range più largo. Pensavo una forbice più larga. Tu hai visto i tatuaggi che c'è a Beethoven? Che c'è a Beethoven. I tatuaggi, i pianoforti, cosa che è pazzesco. Però tu suoni anche, no? Suono? Sì. Se è arrivata l'imposizione. Cioè, con la banda, no? Ah, no. No, lei nega sempre. Dico, no, io non parlo coreano. No, e poi abbiamo visto. Cosa hai fatto a Garmisch? Al posto di suonargli l'allavon, ho suonato la gran cassa della banda che c'era a fine gara. Potevamo non avere le immagini della gran cassa. Ce l'abbiamo. Cosa hai fatto? Il tempo, il tempo. Il tempo, il tempo. Il batta bene. 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 Insomma, è andata a tempo. È stata brava. Tu non hai il cellulare, vero? Usi poco il cellulare? No, anche lì ti risponde, no. No, però invece ho sentito che se suona il telefono di casa ti irriti. Se il telefono di casa, sì, il cellulare ce n'ho anche due. Ma quello di casa invece non rispondi? No, quello no. È proprio una cosa che potrei averlo qua. Ma scusami, alla tua età perché c'è il telefono in casa? Cosa? Sei l'unica. Siamo all'antica noi ancora. Ah, ma che vivi con i tuoi? Sì, sì. Ah, ok, ok. E certo, con chi deve vivere? No, perché una ragazza della sua età non c'è il telefono in casa. Non c'hanno più. Ma chi c'è il telefono in casa? Ma qui c'è il telefono in casa? Noi ragazzi, no. Ma io ce l'ho il telefono in casa, adesso che non avete il telefono in casa. Ma ce l'avevi lì quando hai contato la casa? Ma no, che squilla. Ma certo che squilla. Se qualcuno sbaglia il numero... Ma chi è l'altro che c'ha il telefono che ti chiami? Giampiero, tu hai il telefono a casa? Il telefono fisso, certo. Certo, tutti abbiamo il telefono. No, ma non... Eh, anche Suor Cristina. Suor Cristina c'è il telefono. No, io voglio. Abbiamo il telefono fisso. Non hai il cellulare? No, io no. Ma nessuno in convento ha il cellulare? Sì, le mie consorelle ce l'hanno. Io per scelta ho deciso di non averlo. Suor Carmela ce l'ha? Suor Carmela ce l'ha. Super tecnologica. E la pianziana? Su Facebook Suor Carmela? Su Facebook. Su Instagram. Su Instagram Suor Carmela? Anche su Instagram. Ma scusa, fate le foto della Madonna. È un po' blasfema, lo so.